Una vita, anticipazioni 16-21 ottobre, Mauro sottoaccusa Anticipazioni Una Vita, puntate prossima settimana, un duro colpo per Mauro. Nuova incredibile settimana Una Vita. La sop spagnola riserverà dei colpi di scena al pubblico attento di Canale 5. Nelle prossime puntate della telenovelas, Mauro spingerà Fabiana a confessare le colpe della figlia. La domestica però si rifiuterà di incolpare Cayetana per la morte di Ursula. Del Valle toglierà presto il caso dell'omicidio dell'istitutrice di Acacias 38 a Mauro. Il destino della sotelo-Ruze della madre cambierà con un ritorno inaspettato, quello di Ursula. L'istitutrice si presenterà in commissariato, vestita da signora, lasciando a bocca aperta Fabiana. Nelle puntate dal 16 al 21 ottobre di Una Vita, San Emeterio cercherà in tutti i modi di convincere Ursula a testimoniare contro Cayetana e allearsi con lui per incastrarla. L'istitutrice però si rifiuterà di assecondare le richieste dell'ispettore. Nel frattempo Cayetana riceverà delle minacce e presto capirà che dietro le frasi minatorie trovate sui quadri della sua abitazione si nasconde Ursula. Fabiana infatti racconterà subito alla figlia che l'istitutrice è ancora viva. Nel frattempo la sotelo-Ruze, in viaggio con Teresa nei luoghi della sua infanzia, deciderà di togliersi le bende per verificare se l'operazione al volto ha avuto successo. Con grande sorpresa, Cayetana riscoprirà la sua bellezza. Una vita, trame i nuovi episodi, la rivolta è da Cacias 38. Le anticipazioni di Una vita svelano che nelle prossime puntate della SOC ci sarà una rivolta delle domestiche. Stinti da Huertas, che ha ottenuto dai Palacios un contratto di lavoro, Casilda e Lolita chiederanno un aumento e le ferie. Due richieste che verranno negate. Felipe irritato dalla rivolta delle domestiche spronerà i suoi vicini a licenziare tutta la servitù. Presto però l'ordine ritornerà ad Acacias 38, Lolita e Casilda rinunceranno alla loro lotta di classe. Intanto, dopo la crisi di un amore a una vita, Felipe minaccerà Huertas. Un colpo di scena inaspettato però avvicinerà involontariamente l'avvocato e la domestica. Nel frattempo nelle nuove puntate di Una vita. Casilda e Lolita saranno pronte ad andare a vedere il film di Martine e Enriqueta. Il ragazzo però riuscirà a rubare la pellicola. Nel frattempo Rosina continuerà a pensare a Liberto. La donna chiederà consiglio al fantasma di Maximiliano e sarà intenzionata a riconquistare il nipote di Susana, evitando che il ragazzo lasci Acacias 38. La vedova darà un appuntamento a Liberto e svelerà i suoi sentimenti per lui. Il giovane la bacerà appassionatamente. Nel frattempo i rapporti tra Mauro e Del Valle saranno sempre più tesi. Il commissario si scaglierà contro San Emeterio per l'accanimento contro Cayetana. La not Ciao